La General Enterprise non paga stipendi agli operai impegnati nella raccolta differenziata nel comune di Futani e la CGL proclama lo sciopero aziendale. Ad oggi, spiega Erasmo Venosi, responsabile provinciale della Federazione Lavoratori Funzione Pubblica, ai lavoratori non sono state corrisposte le mensilità di gennaio e febbraio 2021 e la tredicesima e quattordicesima per l'annualità 2020. In segno di protesta è stata indetta una giornata di sciopero. Il 9 aprile prossimo gli operai non ritireranno la spazzatura su tutto il territorio del comune di Futani. Lo sciopero sarà revocato solo nel caso in cui l'azienda provvederà a pagare gli arretrati prima della giornata di protesta. La General Enterprise più volte è oggetto di contestazioni da parte dei sindacati per i mancati pagamenti degli stipendi ai suoi lavoratori. Il comune di Vibonati per far fronte a questo problema nel nuovo contratto d'appalto sottoscritto con Enterprise il 18 marzo scorso, è stata l'unica a candidarsi alla gara, ha fissato alcuni paletti e avanzato alcune richieste a tutela dei lavoratori e per un miglioramento del servizio. Per esempio l'ente locale non pagherà la società in caso di mancata corrispondenza degli stipendi agli operai e poi ha chiesto l'apertura di un infopoint, la sostituzione di tutti gli automezzi, l'attivazione di un'isola ecologica mobile per le attività commerciali e della raccolta dell'olio esausto. Tra qualche giorno verrà redatto il verbale di consegna con il cronoprogramma di tutte le attività richieste dal comune.